Con questo modulo, il modulo che mi trovi bene davanti alla difesa, di cercare di diventare i tempi, di cercare di dare i più balloni possibili a queste due persone, però allo stesso tempo, anche parlando di l'istituto, il modulo, ci vogliono dei concetti di gioco, il modulo viene in un secondo tempo, quindi se il modulo è 4x3 può essere utile partire per farsi che tutti i giocatori giocano bene, va bene, non si può cambiare, però è un modulo che personalmente mi trovi bene.